Ciao Marcella, come mai siamo qui oggi? Perché mi hai portato in questo luogo? Ciao Luisa, ti ho portato nel parco di Montevecchia e della Valle del Curone. Un gioiellino, mi piace dire che i brianzoni nascondono i milanesi. È un parco in cui nel 2004, più di 18 anni fa, è nata Ecopsychel, scuola di ecopsicologia. Il primo seminario l'abbiamo fatto qui, in quelli che erano ancora i ruderi di Galbusera Bianca, che oggi è un oasi, un hotel de charme. Tra queste colline è questo paesaggio che, guarda, se adesso ce lo fai vedere, è proprio che permette facilmente anche a chi vive in città di venire a sperimentare una più completa immersione, nella natura, e questa immersione nella natura fuori ci facilita il contatto con la natura dentro. Diventa più facile ascoltare intuizioni, sensazioni, ed è veramente un momento di grande ristoro e benedizione. Grazie. Grazie. Grazie.